Radio Puggino On Air Benvenuti a Notizie Flash di Radio Puggino On Air Il naufragio del veliero Bayesan a largo di Porticello avvenuto lo scorso 19 agosto continua a far discutere con nuove rivelazioni che emergono dall'inchiesta in corso grazie alle immagini satellitari analizzate dagli esperti sembra che il fenomeno atmosferico che ha colpito la barca sia stato davvero un downburst una corrente discendente violenta e improvvisa che avrebbe reso impossibile ogni tentativo di mettersi in sicurezza in tempo secondo Edoardo Ferrara meteorologo di RB Meteo i dati satellitari della notte del naufragio mostrano una vasta cella temporalesca che ha colpito la zona in cui si trova il Bayesan Ferrara spiega che il downburst è un fenomeno particolarmente violento con raffiche di vento che possono raggiungere i 100 km orari in questi casi la corrente discendente si scontra con una superficie calda e si espande a ventaglio colpendo tutto ciò che si trova nelle vicinanze chiarisce Ferrara il temporale che ha investito il Bayesan era di tipo V-Shape un sistema temporalesco a forma di V noto per la sua potenza distruttiva nonostante un'allerta meteo fosse stata emessa giorni prima l'imprevedibilità del downburst ha lasciato pochissimo tempo all'equipaggio per reagire la procura di termini merese sta cercando di capire se ci siano responsabilità da parte del comandante James Catfield dell'ufficiale di macchina Tim Park Rayton e del marinaio di guardia Matthew Griffith le accuse riguardano possibili negligenze nella previsione del maltempo e nelle operazioni di salvataggio tuttavia la sopravvivenza di 15 persone tra cui una bambina di meno di un anno grazie all'uso delle scialuppe e all'intervento di una nave olandese nelle vicinanze dimostra che qualcosa è stato fatto per evitare una tragedia ancora più grande oltre al downburst un altro aspetto sotto esame riguarda la particolare conformazione del veliero Paolo Cori, esperto progettista di yacht ha suggerito che l'albero di 72 metri del Bayesian possa aver giocato un ruolo nel rapido capovolgimento della barca fungendo da leva durante la tempesta tuttavia l'integrità dell'albero e dello scafo ritrovati intatti solleva dubbi sull'effettiva responsabilità di tale struttura nel naufragio I cambiamenti climatici hanno amplificato la frequenza e la violenza di fenomeni come il downburst aumentando i rischi per chi naviga nel Mediterraneo con temperature marine che hanno raggiunto i 30 gradi ben oltre la media stagionale l'energia disponibile per questi eventi estremi è aumentata notevolmente Ferrara utilizzando una metafora ha paragonato il downburst a un lupo nel bosco non è detto che si incontri ma il rischio esiste e bisogna essere pronti mentre le indagini continuano appare chiaro che eventi climatici estremi come il downburst rappresentano una sfida sempre più difficile da affrontare le allerte meteo devono essere prese sul serio e la consapevolezza dei rischi in mare deve aumentare soprattutto in un'epoca in cui i cambiamenti climatici stanno intensificando fenomeni imprevedibili grazie per aver seguito questo aggiornamento delle nostre notizie flash qui a Radio Fuggino NER rimanete con noi per ulteriori sviluppi su questa tragica vicenda e per altre notizie e aggiornamenti solo qui a Radio Fuggino NER